Da grande voglio andare su Marte. L'anno prossimo farò il giro del mondo in moto. Voglio aprire un ristorante tutto mio. Costruirò una bicicletta per mia figlia. Voglio fare il miele. Ogni anno 35.000 sogni rischiano di essere spezzati da un tumore del sangue. Non lasciare che accada. Sostieni la ricerca. Sostieni Aie da 50 anni con i suoi 20.000 volontari accanto a chi soffre.